Nessuno tocchi Marche Nord, significherebbe far perdere autonomia e capacità gestionale al nord delle Marche. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci interviene sul futuro dell'azienda ospedaliera rispondendo alle affermazioni dell'assessore regionale Stefano Aguzzi che proprio su Marche Nord ha dichiarato che l'azienda era nata con l'intento di creare un unico polo ospedaliero tra le città di Pesaro e Fano. Dunque nel momento in cui si decide di non avvalorare un'unica sede ospedaliera provinciale non è più un dogma mantenere due strutture organizzative quali l'area Vasta 1 e l'azienda ospedaliera Marche Nord. Aguzzi si è detto contrario all'ospedale unico provinciale ma favorevole ad una nuova struttura sanitaria ridimensionata per Pesaro con un massimo di 400 posti da sostenere con finanza regionale e bando regionale impegnando anche le risorse del Cipe. A stretto giro arriva la risposta del sindaco Ricci la regione deve parlare una voce unica perché ogni assessore sta dicendo una cosa diversa a Pesaro nel consiglio comunale abbiamo rilanciato un accordo provinciale ha detto il sindaco un patto rinnovato che confermi gli investimenti previsti nell'azienda Marche Nord e quelli che servono sulle aree interne e sulla sanità territoriale. Tra questi il nuovo ospedale di Muraglia struttura di eccellenza di secondo livello la clinica convenzionata Fano, il presidio sanitario Santa Croce e la strada di collegamento tra Pesaro e Fano è la proposta che facciamo assieme agli investimenti delle aree interne con l'ospedale di Rete di Urbino, il polo di Pergola e le altre strutture sanitarie dell'entroterra rilanciaricci ribadendo che in questo momento non mancano le risorse per gli investimenti. Se la regione Marche vuole annullare il project per noi non ci sono problemi ma deve mettere la differenza per completare l'ospedale utilizzando risorse pubbliche. Infatti ricorda ci sono altre possibilità di finanziamento, con le nuove regole di bilancio la regione ha la possibilità di accendere nuovi mutui, inoltre l'Inail ha istituito un fondo con prestiti molto convenienti per la realizzazione di strutture sociosanitarie. Il regione ha concluso Ricci, vedo troppo protagonismo dei singoli assessori, serve invece una sintesi del presidente Acquaroli. Basta confusione.